Ciao a tutti ragazzi, siamo me da Skyrimada Food qua con la nuova challenge 3 not too long la prima challenge bisogna cercare di vedere un video e non sputare l'acqua che adesso beviamo da questi bicchieri divertente il video si deduzi si suppone non come il 4 prima che abbia visto che facciamo schifo ok ok it's biden man I 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 Sì, sì. Arrochiavo! 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 no 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 Sì 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 Ripse Questa è la challenge ragazzi Vengoglia l'acqua Ok Io Perso nettamente Mi dispiace secondo primo C'è Lui perché tossisce Ma Sì E io планeta Mettete like Iscrivetevi E vorrei mettere una parentesi abbiamo messo tre anni si questo è la quinta o la quarta non so ciao a tutti i ragazzi